Prima di iniziare, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale, lasciare un like e attivare le notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Oggi, vi portiamo una straordinaria rivelazione che ha scosso il pubblico il 7 ottobre 2023 nell'ultima puntata del programma di Canale 5 condotto da Silvia Tofanin. La protagonista dell'intervista è stata Romina Carrisi, la celebre figlia di Albano e Romina Power. Romina ha sorpreso tutti confessando di essere incinta da cinque mesi e mezzo. Con emozione, ha condiviso il suo viaggio personale, raccontando di essersi ritirata in una masseria quest'estate, desiderando mantenere questa notizia riservata fino a un momento appropriato. La notizia della sua gravidanza è stata accolta con gioia da Stefano Rastelli, il padre del bambino, e dalle sue figlie Emma e Lola. Tuttavia, la storia ha preso una piega dolorosa quando Romina ha condiviso di aver subito un aborto in passato. Ha spiegato che ora desidera un ambiente familiare stabile e amorevole per il suo bambino, e con Stefano, che ha già esperienza con la gestione di due famiglie, Romina è ottimista sul futuro. La sua toccante confessione ha suscitato empatia e ha aperto un importante dialogo sulla maternità e sulle difficili decisioni che le donne devono prendere nella società moderna. Vi invitiamo a condividere le vostre opinioni nei commenti alla fine del video e a seguirci per non perdere i prossimi aggiornamenti. Grazie per averci seguito, e ci vediamo presto con un nuovo video.